Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Ti invito ora a seguirmi nella visita di Scilla, il suo toponimo, la visita alla città e la sua storia. Scilla, anticamente o Scigiu, in reggino, è comune della città metropolitana di Reggio Calabria, in Calabria appunto, i cui abitanti sono detti scillesi, in dialetto reggino, scighitani. Scrisse di lei Alexander Dumas, arrivai in città ammirando la sua strana posizione. Costruita su una altura, discende come un lungo nastro sul versante orientale della montagna, poi, girandosi a guisa di esse, viene a distendersi lungo il mare. Il toponimo Scilla, in greco, significa cagna, e richiama un misterioso mostro che sarebbe responsabile di tempeste scatenatesi sul mare che determinarono la fine di molti naufraghi. Descritta da Strabone come uno scoglio simile a un'isola, Scilla mantiene tuttora i tratti di questo paesaggio. Sui pochi abitanti furono degli abili navigatori e conoscitori delle rotte, notizia questa confermata anche da San Girolamo. Correndo a pochi metri di altezza sul mare, tirasenta a sua sinistra la bella spiaggia, con notevoli installazioni balneari del Lido Costa Viola, tra speroni rocciosi e scogliere, alla quale si può scendere dopo aver varcato il torrente San Gregorio. La statale, abbandonata ormai la costa dello stretto, prosegue tra coltivazioni di agrumi e viti, con vista alle spalle dell'estrema punta orientale della Sicilia, densa di abitati. Gira quindi attorno al capo Paci, nei cui pressi a sinistra è una terrazza panoramica, dove si gode una stupenda vista sulla marina grande di Scilla, dominata dal castello e su un ampio arco costiero, fino al capo Vaticano. Con l'aria limpida si scorgono perfino le isole eolie. Poco dopo, contornando la marina grande, si arriva a Scilla, una delle cittadine più pittoresche della costa tirrenica calabrese, situata ad anfiteatro digradante verso le due baie divise dalla mitica rupe a picco sul mare, sormontata dal castello che domina il porticciolo. È notevole centro peschereccio, agrumario e stazione balneare, con pittoresca spiaggia e approdo turistico. È l'antico Scillaeum, noto per il classico mito legato al suo nome. Sul promontorio sorse l'Opidum Scilleum, ricordato da Plinio, che col tempo crebbe di importanza. Scilla fu conquistata nel secolo IX dai Saraceni e nel secolo XI dai Normanni. Nel 1255 Pietro Ruffo, in lotta con Manfredi, ne fortificò il castello. Nel 1806 al 1808 tra francesi ed inglesi, nel periodo napoleonico e nel 1712 sostenne vittoriosamente un assedio inglese. Scilla è o è stata uno dei centri più attivi della pesca al pesce spada. Dalla parte media dell'abitato, un tronco conduce al quartiere di Chianalea, abitato da pescatori, dove si può proseguire per il porto. Da qui una suggestiva strada sotto le rocce raggiunge la bellissima e attrezzata spiaggetta che orla pittorescamente il piede della rupe. Non lontano dalla diramazione per il quartiere dei pescatori, in una selletta, sorge la chiesa dell'Immacolata, già chiesa basiliana di San Pancrazio, annessa ad un famoso monastero. A destra, sul sommo della rupe, sorge il castello, cui si può salire per una strada sinistra della chiesa dell'Immacolata. Appartenne ai ruffo e rovinò in seguito al terremoto del 1783. Ha un faro della portata di 18 miglia. Oggi il castello è adibito a ostello della gioventù ed è molto frequentato. Dalla chiesa dell'Immacolata si può salire alla parte alta della cittadina, ossia al rione San Giorgio, dove si apre la piazza San Rocco, con l'omonima chiesa. Sempre in questa zona si trovano anche il municipio. È un interessante bel vedere, da cui lo sguardo si spinge fino alla punta del faro, in Sicilia, e fino allo Stromboli. Da piazza San Rocco una via panoramica conduce al caratteristico monumento al pesce spada, di bronzo, in una vasca. Tornati alla chiesa dell'Immacolata, si può scendere alla Marina Grande, prospicente la spiaggia principale, dove sorge la chiesa dello Spirito Santo, con facciata barocca. Infine, dalla Marina Grande si può passare alla spiaggetta piccola e al porto dominato dal castello. Un paio di curiosità a proposito del territorio di Scilla. In località Fondo Florio, scorga la fonte di Paolo Re, utilizzata nelle affezioni gastroenteriche e in quelle del ricambio. Inoltre vi si trovano, sempre nello stesso territorio, anche le interessanti grotte di Tremusa e della Lamia ricche di stalattiti. Della storia di Scilla ti ho già dato un accenno sintetico. Ora ti racconterò qualche approfondimento. Le origini di Scilla sono antichissime, confuse tra mitologia, storia, leggenda e poetiche immagini alimentate per millenni dalla suggestività dell'ambiente naturale. Secondo la mitologia greca, Scilla era una ninfa marina, che per gelosia fu trasformata da Circe in un mostro mentre faceva il bagno in una caletta presso Zancle, l'odierna Messina. Posto delle gambe ebbe sei teste di cane che la travano e lunghe code di serpente. Questa è la storia raccontata nell'Odissea e nelle Metamorfosi di Ovidio. Secondo Palifato, Polibio e Strabone, il primo nucleo abitato di Scilla risalirebbe ai tempi della guerra di Troia, quando nella penisola italica vi furono ondate di migrazioni di popolazioni ibero-liguri, provenienti dal mare e dirette verso sud. Pecchi ritiene dunque che tali popolazioni potrebbero aver fondato qualche villaggio lungo i terrazzamenti più bassi del crinale aspromontano sud-occidentale, digrandante verso lo stretto. Trattandosi di popoli di pescatori, presumibilmente elessero come area di insediamento il sito adiacente alla rupe centrale di Scilla, dove la presenza dei numerosissimi scogli agevolava la pratica della pesca, consentendo al tempo stesso la costruzione di rudimentali capanne. Tale ipotesi è in parte avvalorata dallo stesso Mero, allorquando nel descrivere Crataglia come madre di Scilla lascia intendere l'esistenza di uno stretto legame tra questa e la nascita del mito del Monstrum Scillaeum, nato già dalla prima frequentazione umana del tratto di mare antistante l'odierna cittadina. Dal momento che Crataglia è da più parti identificata con il vicino torrente Favazzina, ancora ai tempi del barrio chiamato Fiume dei Pesci, se ne potrebbe dedurre che gruppi di popoli dediti alla pesca, giunti via mare lungo la bassa costa tirrenica, inizialmente siano approdati alla focio di questo fiume, dove era agevole praticare questa attività, e successivamente si siano spostati più a sud, trasferendo la propria residenza presso la costa scillese più ricca di pesci. In mancanza di precedenti testimonianze attendibili, circa le epoche più remote, si è propensi far risalire la prima fortificazione, Pilla, agli inizi del 500 a.C., allorquando durante la tirannide di Anassilao, la città di Reggio raggiunse una notevole importanza, che le permise di ostacolare, per oltre due secoli, l'ascesa di potenze rivali. Strabone racconta che, nel 493 a.C., il tiranno di Reggio Anassila, il giovane, per porre fine alle reiterate razzie perpetrate dai pirati tirreni, a danno dei commerci operati dalla città con le colonie tirreniche, mosse contro di loro con un forte esercito, sconfiggendo e scacciando i pirati da queste terre. Per i tirreni, gli innumerevoli scogli e l'alta rocca, caratterizzanti la costa scillese, costituivano un rifugio naturale ideale, luogo inaccessibile da cui dirigere redditizie scorrerie lungo le coste, nascondiglio sicuro per il bottino e baluardo di difesa contro eventuali controoffensive nemiche. Presumibilmente sorsero quindi contrasti e lotte tra i primi marinai e pescatori che avevano occupato la zona e i pirati tirreni, alla cui bellicosità forse si deve attribuire la causa dell'arretramento dal mare dei pescatori ostacolati dai pirati nella pratica su cui basavano il proprio sostentamento. Ciò spiegherebbe il trasferimento di residenza verso la zona alta di Scilla, l'attuale quartiere di San Giorgio, attuato da queste genti marinare che si trasformarono in agricoltori e cacciatori e che hanno mantenuto le nuove pratiche fino all'età moderna. Espertissimi nella navigazione, i tirreni avevano dominato a lungo da incontrastati padroni le rotte del Mediterraneo, esercitando il proprio predominio soprattutto nello stretto, grazie al presidio posto sulla rupe scillese, all'imboccatura del canale, presumibilmente fortificato. Più tardi però i tirreni vennero sconfitti dai reggini, vittoria che segnò un momento significativo nella storia di Scilla, considerata da Anassila un importante avamposto di controllo sulle rotte marittime. Per quanto riguarda la successiva storia della fortificazione dell'imponente scoglio di Scilla, si ha testimonianza di come essa coincida con la storia delle vicende che hanno caratterizzato il regino all'indomani della tirannide sinacusana. In tarda età magno-greca, poi, lo scoglio scillese è una fortezza, conosciuta come Oppidum Scilleum, aggressivamente potenziata nelle sue strutture militari durante l'età romana, allorquando Porto ed Oppidum costituirono un funzionale ed efficiente sistema di difesa per i nuovi dominatori del Mediterraneo. Alla fine del 200 a.C., durante le guerre condotte dai romani contro i tarantini, sostenute da Pirro, e in particolare durante la Prima e la Seconda Guerra Punica, i cartaginesi, che avevano stretto alleanza con i brutti, o bruzzi, e circolavano liberamente lungo le coste regine, furono fermati nella loro ascesa proprio grazie alla strenua resistenza opposta loro dalla fortificata città di Scilla, alleata di Roma. Tra il 700 e l'800 d.C. i primi monaci basiliani, secondo gli storici, fondarono il monastero e la chiesa di San Pancrazio, fortificati per volontà della stessa Bisanzio, che aveva affidato ai monaci il compito di difesa delle coste dello stretto. Alla fine, però, il terremoto del 1783 rappresentò uno spartiacque importante nella storia di Scilla, per la particolare violenza con la quale si abbatté sulla cittadina e anche perché rappresentò la fine dello sviluppo economico che Scilla ebbe lungo tutto il Settecento. Successivamente arrivò anche un altro terremoto nel 1908 che costò a Scilla, come a Messina, migliaia di morti. Infatti, gli scillesi, per sfuggire ai violenti movimenti tellurici, dopo il crollo delle loro abitazioni, si riversarono sulla spiaggia pensando di essere al sicuro, ma un violento maremoto si abbatté sulla spiaggia, travolgendoli e finendo così di decimare la popolazione.